Vediamo adesso come avviene il processo di decolonizzazione nell'altro grande continente, l'Africa, che era stato soggetto alla spartizione delle potenze europee a partire dalla fine dell'Ottocento con la conferenza di Berlino del 1879 e che era proseguito fino all'inizio del Novecento con l'acquisizione delle colonie italiane dell'Africa, Eritrea, Somalia, Etiopia e Libia. Le colonie europee più... l'impero europeo più diffuso in Africa era quello francese. La Francia possedeva i tre grandi paesi dell'area mediterranea, Tunisia, Algeria e Marocco. Molte colonie nell'Africa occidentale e nell'Africa centro-occidentale. La grande isola del Madagascar è un pezzettino di Somalia, la Somalia francese. Le tre grandi colonie magrebine, e cioè dell'Africa settenzionale, Marocco, Algeria e Tunisia, di fronte al rifiuto netto per l'indipendenza da parte dei francesi, misero in atto delle azioni di guerriglia che durarono molti molti anni, fino a quando per logoramento nel 1956 la Francia, stanca e allo stremo delle risorse, riconobbe l'indipendenza di Marocco e Tunisia, non così per l'Algeria. Perché? Perché in Algeria abitavano più di un milione di francesi che sarebbero stati messi in pericolo di fronte a un riconoscimento dell'indipendenza. E questo diede origine ad una vera e propria guerra, cioè la guerriglia si trasformò in guerra. Il fronte di liberazione nazionale, formato sia da civili che da integralisti religiosi musulmani, cominciò a partire dal 1954 a dare inizio ad un conflitto che causò migliaia di morti e che si concluse solo nel 1962 con il riconoscimento dell'indipendenza algerina. Nell'Africa subsahariana, quindi quella al di sotto del deserto del Sahara, vide la liberazione della maggior parte dei paesi tra il 1957 e il 1965. Altri si liberavano anche a partire dalla metà degli anni 70. Ci fu una lotta particolarmente dura in Congo che voleva liberarsi dalla potenza coloniale del Belgio perché c'erano enormi interessi economici collegati all'estrazione dei diamanti. L'indipendenza arrivò solamente dopo violenti scontri tra militari e civili locali nel 1960. quest'uomo che vedete qui in questa foto è Patrick Lumumba che tentò di ristabilire i diritti dei congolesi e che però poi fece una brutta fine, fu assassinato. E questa è la sua famosa frase in cui dice quel giorno in cui parleremo della nostra storia l'Africa potrà scrivere la sua storia e sarà una storia di gloria e di dignità. Queste sue belle parole lo portarono solamente all'assassinio. fu lento e drammatico anche il processo delle due colonie portoghesi l'Angola e il Monzambico conclusosi addirittura nel 1975. Particolarmente in Angola il movimento di indipendentista, di decolonizzazione avvenne con l'aiuto dell'Unione Sovietica. Infatti vedete nella bandiera angolana c'è un simbolo che ricorda tantissimo la falce e il martello dell'Unione Sovietica. Un caso a parte rappresenta il Sudafrica. Il Sudafrica era indipendente dalla Gran Bretagna già nel 1931. Abbiamo visto che aveva aderito ai paesi del Commonwealth. A partire dal, però, il potere in Sudafrica nonostante ci fosse una maggioranza di colore di abitanti indigeni vicina al 90%, il potere venne preso in mano dal 18% della popolazione, i discendenti dei coloni olandesi e inglesi. Questi tra il 1948 e il 1994 hanno attuato in Sudafrica un regime di segregazione razziale chiamato apartheid. Cioè, segregazione razziale vuol dire che la segregazione, che l'esclusione della gente di colore era sancita per legge. Era una costituzione basata su una rigida distinzione fra bianchi e neri. I neri vennero privati dei diritti civili, delle libertà personali, del diritto di voto, di possedere una proprietà privata e del principio di ugualeanza di fronte alla legge. I contestatori venivano imprigionati. Come potete vedere, qui abbiamo alcuni cartelli in vigore in quel periodo. Un bagno per i bianchi e per i non bianchi. Vedete, non venivano definiti neanche neri, ma non bianchi. Cioè, per indicare l'inferiorità della razza. Come vedete anche qui, è entrata solo per i non bianchi. La stazione di Pretoria è una delle capitali del Sudafrica in cui si dice la parte superiore della stazione è destinata ai bianchi. Quella sotterranea per i non bianchi. Vedete una panchina in cui sono sedute persone di colore. i bianchi seduti sulla panchina destinata ai bianchi non gli rivolgono neanche uno sguardo. Questo cartello è terribile perché dice attenzione fate attenzione ai nativi. Cioè, come se fossero delle bestie selvagge. Se vi avventurate in questi territori, ci possono essere queste bestie selvagge. Qui vedete uno dei tanti momenti di protesta in cui non venivano risparmiati donne e bambini. E a causa di questo regime di apartheid il Sudafrica si attirò le condanne di tutto il mondo civilizzato che fece muro contro il Sudafrica imponendogli delle severe sanzioni commerciali e l'esclusione da tutti gli eventi sportivi. Non poteva il Sudafrica partecipare all'Olimpia di campione di calcio a nessun evento sportivo. Finché nel 1994 non fu consentito ai neri di votare. Alla prima elezione si impose l'Africa National Congress di Nelson Mandela. Nelson Mandela è quest'uomo che ha passato circa quasi 30 anni della sua vita in prigione perché aveva protestato in maniera non violenta contro l'Apartheid. Che succede? Che una volta diventato presidente Nelson Mandela ed è per questo che si è meritato il Nobel per la pace impedì qualsiasi ritorsione dei neri sui bianchi quindi inibì il sentimento di vendetta di rivincita lasciò ai bianchi le proprie ricchezze concedendo ai neri nuovi poteri politici in realtà la situazione in Sudafrica non è cambiata di molto nel senso che i bianchi hanno i lavori di più alto prestigio possiedono gran parte delle proprietà e condizionano la vita sociale ed economica del paese i neri sono ancora costretti a vivere in quartieri più degradati e a fare lavori più umili quindi il processo di emancipazione è molto molto lento vediamo cosa è successo invece delle ex colonie italiane la Libia che aveva ottenuto l'indipendenza nel 1951 il governo era stato affidato al re di Libia vede nel 1969 un colpo di stato militare guidato dal colonnello Muammar Gheddafi che proclama la Repubblica e crea un sistema dittatoriale è un fiero oppositore della politica israeliana finanzia organizzazioni terroristiche palestinesi e presto arriva all'aperto conflitto contro gli Stati Uniti i paesi europei particolarmente l'Italia avranno una politica molto ambigua con questo dittatore nel senso che per garantirsi le proprie risorse di gas e di petrolio avranno un atteggiamento compiacente nei riguardi di Gheddafi nonostante i suoi orrendi crimini l'Etiopia subito dopo la seconda guerra mondiale rimette sul trono il Negus cioè il sovrano assoluto Haile Salassie ma nel 1960 affronta che nel 1960 affronta una lingua guerra contro l'Eritrea che era una regione che voleva l'indipendenza alla guerra si unì una terribile carestia tant'è che nel 1974 ci fu un colpo di stato militare guidato dal colonnello Mengistu che rovesciò il regime del Negus e governò fino agli anni 90 la Somalia invece diventa indipendente nel 1960 formando un unico stato che comprendeva Somalia italiana francese e britannica nel 1969 si saurò la dittatura militare di Siad Barre con un regime dispotico e corrotto che aggravò ancora di più la situazione precaria di questo paese dovuta alla fame e alla carestia quindi come vedete questa è la fine dell'imperialismo e la fine del colonialismo le due grandi potenze stati uniti e unione sovietica erano molto d'accordo su questo perché innanzitutto la perdita delle colonie depotenziava le grandi potenze occidentali come la francia e l'inghilterra e poi per gli stati uniti e l'unione sovietica era più facile esercitare il proprio controllo su questi piccoli stati spessi ridotti alla fame e ingovernabili quindi erano una facile preda delle due grandi superpotenze